La prima sfida di questo campionato Non abbiamo avuto le conclusioni, secondo me in botta non ci siamo arrivati perché ho visto un Catania che non era tanto in bande in attacco Il Max Lopes è sempre solo, siamo il punto di Giampaolo, è troppo solo, come fa una giornata di questo, un giocatore in avanti solo, ci vogliono le persone vicino, il giocatore vicino È solo una delusione oggi, complimenti agli ultras delle curve, è solo questo, poi è tutto negativo È la domenica degli esperimenti, non tutti gli esperimenti funzionano, oggi non ha funzionato del tutto l'esperimento Quindi bisogna che si ripeti, forse l'esperimento va reiterato in modo da vedere cosa funziona e cosa non funziona Quello che non funziona è forse quello che ha mostrato più il Catania Il Catania ha bisogno forse di una conferma, di costanza e di sperimentazione, quindi siamo in sperimentazione Il pareggio ci stava È un'indecenza l'ingresso allo stadio, i tornelli sono pochi, le file sono lunghissime, i controlli sono veramente pessimi Per cui è normale che molta gente rinunci, per forza di cose, a fare l'abbonamento Mi piace molto lavorare, c'è una squadra, ho visto una squadra molto spenda Non lo so, comunque non lo so, siamo a colore Un po' chi ti rimporta, cioè non c'era, non si arrivava a riuscire a tirare in porto Le fasce, le fasce, dovevo cambiare un paio di uomini Lodi e Lanzafame, cioè Lodi doveva entrare prima, Lanzafame doveva uscire prima Siamo agli inizi Non riusciamo mai a batterli e questa è una cosa che sta diventando purtroppo una consuetudine Però la cosa ancora più grave è la lentezza nella manovra del Catani Cioè questa è una cosa che mi ha deluso particolarmente Però è la prima giornata, magari qualche schema ancora non è stato, come dire, consolidato Per cui ripeteremo domenica A livello di gioco ci siamo Comunque la squadra ha giocato bene, il Siena è rognosa come squadra Si chiude abbastanza bene È stato questo il problema, il gioco c'è, però potenza è capovano Poi non siamo riusciti a prendere questa vittoria Oggi il Siena si conferma a bestia nera del Catania Non ha mai perso qua Secondo me prestazione deludente, forse il caldo Forse troppi allenamenti Speriamo bene per il futuro, per questa stagione I 50 punti Ci crediamo, ci crediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima